ciao a tutti con questo video voglio cercare di spiegare quanto più possibile per quanto riguarda l'installazione di questo stereo nella nostra delta questo è un quad core 2 din 8 pollici in questo caso corredato dal software 5.1 lo si può trovare con 4.4 o addirittura il 6.0 prezzo d'acquisto più o meno in rete lo si trova dai 200 euro fino ai 400 pure ho visto qualcosa per quanto riguarda le sue funzionalità possiamo dire che in questo caso passiamo alla radio ha di bell'impatto piacevole ricezione più che buona ottima devo dire con con delle belle con una bella grafica le sue funzionalità sono il navigatore in questo caso si gic mentre originariamente ha il google map google map che ho sub eliminato perché a me non piaceva come impostazione tornando in indietro posso far vedere sulla home ciò che fa vedere direttamente ma semplice come 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 grafica abbastanza funzionale bluetooth in questo caso recuperato dai comandi al volante mostra direttamente il tastierino dei numeri però io comunque la possibilità di visualizzare la mia rubrica con i vari numeri che possono interessare ciò l'ho integrato con il microfono che originario dell'auto qua sotto mentre per quanto riguarda le varie impostazioni io ho la possibilità di scegliere le sorgenti direttamente dai comandi al volante comandi al volante che io ho recuperato in pieno perché ho seguito una guida che ho trovato in rete e funziona più che bene io ho il volante a 8 tasti e ho utilizzato sorgenti mute volume più o meno e selezione fra i vari canali radio e apertura e chiusura chiamata in questo caso tra le varie sorgenti abbiamo la possibilità di visualizzare dvd che in questo caso non è inserito automaticamente non trovando la sorgente mi si mi ritorna nella home gestione di una penna usb in questo caso io l'ho inserita nella sua alloggio originale del blu e mi perché lo ho eliminato totalmente il blu e mi visto che lo stereo mi fa le stesse uguali cose del blu e mi funzionalità eccolo qua vi faccio vedere ciò che sta nella cartella che adesso sta eseguendo e tornando da quest'altro lato mi dice quali sorgenti può attingere musica o qualche altra cosa dalla sorgente flash su interna gps che sarebbe questa sd sarebbe quest'altra e usb questa qua in questo caso il per quanto riguarda la possibilità di avere anche video in questo caso i video sono ciò che uno vuole inserire sia film o videoclip a livello musicale audio audio posso dire che ha una buona potenza perché arriva dichiarato 4 per 50 di picco però devo dire che per fino a come fondo scala arriva a 30 come misurazione 15 per me già va bene perché non si riesce a dialogare granché bene con il vicino di posto una buona riproduzione audio e devo dire anche come video lo schermo è un bel a una bella riproduzione per quanto riguarda per quanto riguarda il restante musica la possibilità ecco volevo far vedere c'è la possibilità di poter utilizzare anche un ingresso per ipod eccolo qua c'è un cavetto corredato il comando al volante questa è la pagina con tutti i vari con tutti i vari comandi che si possono dare allo al volante si memorizzano questi quasi fa una una memorizzazione e funziona tutto perfettamente io posso tranquillamente garantire nero su bianco che comunque funziona tutto io ho seguito una guida trovata in rete come ho detto già prima e va benissimo che dire più ragazzi io ho utilizzato ciò che avevo per le mani ho sfruttato quanto più che dire ragazzi per quel prezzo che vale per il prezzo che ho pagato va ci valgono tutti questi soldi a voi le considerazioni spero di aver fatto cosa gradita ciao a tutti grazie